ciao a tutti molto a questo video di magis of lotus come ogni domenica andiamo a prendere le varie challenge dei vari formati e vediamo ci sono dei mazzi spicy che possono poi cambiare le cose dal punto di vista del meta o degli spike quindi vedere se qualcosa salirà quindi cominciare mi lascia mi piace commentare iscrivete canale soprattutto ad abbonarvi camminare più diretta per sostenerci e non ti ricordo il nostro sponsor fantasiastore.it un negozi più fuori in italia e soprattutto ogni più veloci a spedire con noi avete il codice lotus 5 qui dalle 5 per cento di sconto sui prodotti non già scontati quindi ragazzi approfittate allora vado a prendere direttamente i mazzi più interessanti quindi spedito spedito allora quella del legacy c'è l'interessante anche se non è nato potto ma è undicesimo quindi comunque siamo lì orzo stone blade da un po che non vedevo gli stone blade sono mazzi che ricordano un po diciamo la vecchia scuola infatti comunque questo non è uno stone blade puro ma è un po un mix perché in realtà ha tanti elementi di tasse giocano anche carte particolari gioca gli orion quindi un mazzo che si basa anche sul value delle tb gioca appunto taglia e tutte le altre carte da diciamo tax tax tassa e niente di pacchetto con la stone force c'è da prendere batta e caldra non gioca altre cose a parte lion session che vabbè però anche soltanto come creatura lion lion session che si può tutelare quindi è comunque importante nel match up in cui lo vuoi recuperare e vabbè la stone force che dà il normal deck e ovviamente di interessante anche recruit of the guard che presto è una carta che farà anche parte del pool di modern perché l'hanno spoilerata in modo a rezzo 3 allora in realtà da questo deck non devo segnalarvi nulla dal punto di vista spike perché anzi devo segnalarvi dal punto di vista inverso cioè che plummet cala cala il prezzo il recruiter della guardia potrebbe rischiare di essere una carta che cala nettamente di prezzo perché diventerà disponibile facilmente reperibile grazie a modo a rezzo 3 3 è un set comunque stamperanno abbastanza anche se è limitato quindi carte del genere tendenzialmente poi tendono a scendere considerate che poi una volta che la mettono in moda vuol dire che fanno tana libera tutti e probabilmente ce la ritroviamo anche in altri prodotti e quindi gioco forza vi segnalo più che altro che è la nostra cara recruiter potrebbe finalmente per alcuni magari che la stanno cercando da un po e non giocano legacy calare considerate che è costosetta ma non troppo e soviapro giusto la veloce un sky fall per andare a vedere il prezzo della 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 recruiter ma allora recruiter of the best un po troppo i recruiter of the guard e vedete siamo sui sulla ventina sulla ventina probabilmente dipende alla versione ma siamo sulla ventina considerate che appunto poi quando uscirà verità e mitica è in modo rai zon 3 quindi schiocchi le dita la trovi però comunque ce ne saranno poi tante tante di più sul mercato considerate che in modern non mi aspetto diventi una carta da 4 per poi magari potrebbe sorprendermi c'è un mazzo dopo che magari appunto in realtà potrebbe essere aiutato da questa ma vediamo bene dopo però insomma non mi sembra la carta 4 per da moda nel momento poi magari in realtà mi sorprende e quindi a quel punto il prezzo rimane leggermente più basso addirittura identico poi modern invece qua di spice da segnalare c'era selenia life gain eccolo qua ma che cacchio mazzo è in realtà l'hanno chiamato male eliot combo non so perché abbiano voluto chiamare selenia life gain allora praticamente è un vecchissimo tier 1 del formato questo è stato costruito per tantissimo tempo tier 0 praticamente eliot company e si sfrutta il fatto che con la company si può mettere praticamente giù i vari pezzi della combo l'obiettivo è fare il nostro calo eliot e fare praticamente vite infinite tramite spike feeder e eliot perché se tu togli il segnalino al spike feeder con la sua abilità guadagnano i due punti vita guadagnano i punti vita eliot triggera quindi fa sì che tu puoi mettere un segnalino più uno più uno in giro quindi rimetti il segnalino su spike feeder e quindi continui a fare così e fai vite infinite poi ci sono anche altre combo come eliot più walking balista che però la balista ovviamente non può essere presa da company perché non c'è amore praticamente tu fai eliot ficchi il life link grazie all'abilità di eliot sulla walking balista che a questo punto punto life link lei ha almeno due segnalini tu ne rimuovi uno paro un danno in giro sparando in giro fa partire life link quindi guadagni guadagni punto vita guadagni punti vita elioti fa rimettere segnalino e quindi praticamente fai danni infiniti dove diavolo ti pare poi e altre varie sinergie nel mazzo tramite carte con i semi 1 più uno quindi con clemento le così via è un po di poi chiusura di del cerchio con carte che vanno nel piano quindi arbor elf più utopia sprawl per poter fare già magari turno due una colletta e company agato sul caso in questo mazzo forte per cui tantissime abita attivate quindi puoi avere tutto con la vita attivate con i semi più uno è fortissimo la sky clear apparition che vabbè l'interazione di questo deck insomma tutte cose classiche però questo deck due cose a dire lo si tenetelo d'occhio per un semplice motivo questo è un mazzo che già ai tempi quando è andato via la gente non si aspettava troppo perché è un mazzo comunque molto molto forte non c'è da tier 0 poi sparito principalmente con modern horizon 2 ma di per sé comunque un deck giocabile da moda rezzo in tre sicuramente potrebbe ottenere qualche carta interessante è la principale quella proprio che è top per gregorio non impara il pazzo per favore e la recruiter of the guard che permette magari di andare a cercare dei pezzi la sfiga è che non ti va a prendere magari elio perché l'ho di un 55 e quindi la recruta non lo piglia però può andarti a prendere spike feeder può andare a prendere la sky clip apparition può andare a prendere volendo la walking balista perché qualche malista da 00 e quindi comunque già gran parte dei pezzi della combo li può andare a recuperare considerate quel punto che sono cercavi elio del posto l'altra cosa bella che può andare a prendere le silver bullet del mazzo come l'apparition e così via perché comunque lei prende da toughness 2 o giù quindi anche girato di company non è male e bisogna vedere non lo so questo è un deck che mi è sembrato forte già da quando era nato e mi aspettavo rimanesse in realtà nel meta che comunque non ha particolari debolezze comunque girando sulla company e tutto nel deck cioè se non mi se tu non sei un mazzo che mi blocca la compagnia che in qualche modo posso fare le le mie robe e quindi niente in questo caso lo segnalo possibili spike ma qua direi che calderona già raggiunto il suo prezzo già caro salire ancora di più mi pare follia poi oddio tutto può succedere quelle altre carte sono già abbastanza costo 7 così perché alla fine l'unica carta potrebbe valere un po di soldi e gli odd che però insomma no e la champion anche lì la sua storia l'ha fatta quindi mal che vada mi aspetto più che altro questo mazzo possa influire se alimenta di nuovo appunto giocato tramite la recruiter of the guard e quindi far sì che il discorso che dicevo prima sia sul secondo scenario cioè che la recruiter of the guard rimanga su questo prezzo perché la gente poi la cerca per questo mazzo ma appunto uno questo mazzo deve tornare e due dovrebbe giocarla che sono due cose che non sono affatto scontate poi sempre da modern un mazzo molto spicy che però mi sembra molto molto fantasioso è stranissimo e questo land destruction in z condice la si baserà su spaccare terra all'altro in realtà questo è un mazzo che fa una cosa che si fa in pop usa le cleansing wildfire sulle proprie terre infatti gioca 4 dark steel e quattro ponti i ponti z il silver bluff quindi l'obiettivo qual è tu fai turno 2 ramp growth pesco perché ti targhetti una tua terra indistruttibile con cleansing wildfire quindi ti cerchi comunque la terra basica nel mazzo da mettere in gioco tappata e poi peschi ovviamente e quindi sostanzialmente tutto obiettivo è fare poi turno 3 una bomba che costa 4 in questo caso car e carne poi dopo da lì ci va a fare tutto lo che deve fare quindi va a prendere l'anello va a prendere delle carte forti dalla side insomma le cose che cosa che fa carmino di spy sia vabbè rise and shine che è una carta davvero davvero strana la tappi 2 sorcery un artefatto non che trovi controlli diventa un artefatto 00 i metti 4 6 1 1 esenzialmente tappi 244 considerate che questa è una bella sinergia perché se tu tappi 2 poi già fare anche da xd la punto 44 indistruttibile perché l'indistruttibile non lo perde o questa cosa con il con il bridge se tu paghi 6 puoi fare overload di questa carta e tutti i tuoi artefatti fanno così ovviamente quelli non creatura allora praticamente vuole fare una versione più control di ensoul artefat e solarti fatto praticamente era una vecchia roba che si giocava e si gioca ancora in pioneer è un incantesimo che appunto incanti un artefatto diventa un 55 e bomba allora sostanzialmente però qual era il miglioramento rispetto a ensoul c'è un leggero peggioramento dal punto di vista forza costruzione perché rise and shine rende 44 mentre in solo rende di base un 55 però l'altro di incanta creatura che rimane per terra quindi se perdi l'incanta creatura il tuo artefatto cessa di essere appunto una creatura animata mentre rise and shine e la sorcery una volta che tu l'hai animato ciao e considerate che con l'eterno artefatto sia una energia davvero molto molto forte che tra l'altro è una cosa usata in pauper ma con il kenku di nuovo quindi anche lì è un pauper traslitterato in modern e quindi sostanzialmente la tua energia è quella fra gli artefatti inistruttibili e grossi l'altro artefatto grosso che vuoi fare questa cosa è una ring perché da una ring è indistruttibile e comunque non è una creatura quindi lo puoi appunto utilizzare in questo modo così letteralmente l'anello picchia gli altri di spazi anche questo boom basta e questo effettivamente l'elemento di distruzione delle lande allora questo qua essenzialmente lo utilizzi in maniera molto unfair perché tu puoi fare boom che gli stargate una landa tua è una del topo e praticamente cosa fai allora otti target in a fetch e prima appunto della risoluzione di boom specchi e perdi il tuo target ma non quale per questa due target la terra tua terra dell'oppo la spelle filizza se tutto spettiva se tutto quanti target vanno a farsi benedire ma quando target rimane legale quello del topo quindi tu l'abilità la risoluzione l'abilità la spella risolvi ancora quindi tu non ci perdi terre l'avversario perde una terra e tra l'altro solo con due mana non con tre come di solito si fa con queste abilità qui la puoi fare sino allo stesso modo con le terre indistruttibile tra l'altro mettere con indistruttibile ti ripeto di fare questa cosa turno due poi tu puoi fare turno uno sempre di stappato si vabbè bridge turno 2 landa a caso ti targhetti il bridge con il boom e l'altro perde la landa va già subito indietro anche la versione bust tappo 6 spacco tutte le terre non è male per il nuovo indistruttibile ti previene questa cosa di distruggere quindi tu rimani magari con una dark steel è un bridge l'altro con nessuna terra hai fatto armageddon in maniera unfair cioè che tu le terre comunque qualcosa di tenuto è interessante come deck non mi sembra un mazzo che abbia ricevuto chissà che buff da modernize mi sembra particolare molto particolare quindi non allora questa è la prima lega vedremo se la prossima settimana lo vedo di nuovo ovviamente ve lo segnalo e allora magari essendoci un pattern possiamo discuterne e dire ok allora questo potrebbe dire la sua e diventare magari boh giocato sennò allo stato attuale no se l'ho fatto qualche risultatino così a caso verità complimenti al giocatore tutto ma anche per aver portato una build particolare ma da definirlo mazzo meta cioè che uno deve considerarlo quando va a fare i tornei e mi sembra complicato ecco quindi analizziamo questo ancora aspettiamo analizziamo poi modern sempre volevo qua segnalarvi ma senza starvi ad aprire il fatto che jansaga piano piano sta sempre sempre comparendo in varie tornei varie leghe in varie challenge e così via jansaga può essere considerato adesso di nuovo un mazzo fair e viabile nel formato l'avamo anche portato qualche giocatore forte avevo già segnalato la scorsa settimana quindi jansaga tenetelo d'occhio l'unica cosa è che ovviamente sarà modo horizon 3 che però per quei colori bg ha dato tante tante cartine quindi è possibile che sia qualcosa di spicy per quel mazzo che possa poi appunto renderlo ancora più viabile ancora presente nel meta e poi infine standard vi ripresento perché chi gioca standard lo conosce sicuro cascade da un bel po che non si vedeva cascade della tantissimo tempo fuori meta praticamente un mazzo che si basso invece novalara quindi un pentacolor cascade poi l'effetto di invece novalara praticamente fare cascata giri dalla cima finché non trovi un troppo a 4 meno e lo puoi castare senza pagare il costo di mana allora la cosa che cambia da cascade vabbè ho l'abilità la stessa la cosa che cambia che esilla due carte mi chiedevo perché non ci fosse scritto cascade praticamente tu fai invece novalara e ti giri due carte che costano quattro meno l'idea del mazzo che noterete che non ci sono carte che costano quattro mesi praticamente c'è la carta che può essere colpita da questo effetto brambo famiglia il brambo familiar perché tutte le altre costano meno 5 e l'esce questo costa 6 il carno tower alla versione che puoi pagarlo 3 scartandolo ma è l'abilità quindi non conta questo a ciclo ma di nuovo non conta ovviamente è virtio of persistence alla so all'adventure che costa 2 ma di per sé cosa 7 quindi niente quindi al 100% tutti i vecchi il brambo famiglia il brambo famiglia costa 2 ma per come è fatto il regolamento tu cascando in brambo famiglia non dovendo pagare il costo di mana puoi anche scegliere di fare l'avventura fetch quest pagando niente quindi non ti fai il 2 2 ma ti fai l'avventura alla sorcery che costa 7 nei fatti è molto forte millisette carte puoi mettere una creatura o incantesimo o terra fra le carte millate l'obiettivo quindi cos'è mettersi un dei pezzi giganti considerate che sono di pezzi che fanno super value cioè il prezzo più brutto che potete fare questo dinosauro che fa lui 55 più un altro 33 c'è comunque fai 88 totale di forza ma l'obiettivo vero 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 sarebbe fare almeno un se metri di secret or il dissacratore cosa fatta 6 a me non paghi sei in questo caso anche se tendenzialmente a tutto punto la parte lo puoi fare 44 minacciare quando entra esili naca o e quando muore importante esili una un'altra carta dal cimitero se lo fai puoi fare x cose allora la prima è rimuovic segnalini da un permanente dove x sono è il manavaglio della carta che esiliato o una carta da bersaglio prende meno x dove appunto x è il manavaglio della carta che esiliato l'obiettivo è esiliarsi una ca o esiliare dall'oppo una carta che abbia almeno come costo 7 considerate che è facile in questo mazzo perché hai per esempio il nuturing bristleback che con forest cycling te lo metti nel cimitero e altri modi spazi interessanti di farlo quell'obiettivo è spompare l'invasion o valara perché poi una volta che tu hai tolto i segnalini perché appunto non parla di counter più non parla di counter in generale sul permanente tu giri la invece novalara girandolo tieni una sorcery che fa sì che tu peschi due carte poi mette un artefatto dalla tua mano nel campo di battaglia vabbè che artefatti quando praticamente non c'è una mazza no infatti non si usa tanto per quello magari forse decide no questa lista per esempio non ce l'ha ma vabbè è già pescato due che va bene crei una copia di una di un permanente che controlli quindi vai a copiare una delle tue creature bestiali e fortissime e distribuisci tre segnalini più in più uno fino a su fino a tre creature bersaglio e distruggi un permanente che controlla l'oppo c'è quindi capite che fate davvero di tutto è fortissima e comunque considerate che di base anche se non riuscite subito spompare la invece da parlare qui parla comunque potete fare removal su un pezzo dell'oppo e quindi non è che fa schifo allora questo è un mazzo molto spazi che si mangiava abbastanza i mid range è sparito sinceramente non allora un po capito un po no nel senso che allora sì il meta è tanto mid range ma ci sono anche tanti mid range con le permission quindi questo è un mazzo che comunque patisce tanto le permission spell quindi counter perché invece una valara se non risolve non fai cascata questo è il bug principale cioè non è una cascata cascata nel vero senso della parola infatti come dicevo prima sì ok per i due pezzi quello che vuoi eccetera per il problema che è un'abilità legata al fatto a questa carta entry non è al cast come la cascata originale e quindi questa è problematica perché se no appunto se io ho la mano piena di no more lies make make disappear per il piers quello che diavolo deve fare capite che questo non risolve il mazzo non fa nient'altro di particolare e quindi finisce lì la partita perché tutti quanti me drop sono altissimi non ho chissà che interazione turno basso cioè si posso fare un trumpeting carnota o scattato spara tre danni in giro però insomma non è proprio massimo quindi se invece ci sono tanti mi mid range stile golgari o comunque mazzi del genere che sono senza le permission sono i classici mazzi mid range a curva senza interazione sullo stack allora lì sì che vinco perché tu andiamo di interagire con il piano l'invece non risolve ciao ciao però questo standard sono tanti mazzi appunto con le permission è il mazzo di riferimento in questo momento è esperni drenge esperni drenge e forte perché un mid range che ti attacca dal piano un po tempo ma poi salì una volta che ha stabilizzato sta lì a guardarti con la mano piena o di removal o di permission spell e potendo sfruttare carte come raffin che fanno fare un incredibile qualità ti pesca mezzo mazzo è facile che ci abbia sempre la permission tu non giochi questo deck mi aspetto qualche up and down no mi aspetto questo che sia più stato un caso che si è arrivato così in alto per il giocatore magari forte ovvio niente da dire su ciò però mi aspetto che è più un caso nel senso che comunque vedete questa questa top ha solo un espermi drenge cosa stranissima per per questo standard è solo una zonius control cioè normalmente sono molto di più questi deck questo molti più perché sono i deck più performanti e gli altri sono bollo sconvoche sono degli agro che una volta che stabilizzi voce a posto anche perché un commercio di picchi e violento ma non si riprende facile orzo mid range che quello che ha vinto appunto il classico mi dicevo prima c'è cambia da colgaria a orzo ma l'idea è sempre quella poi per carità uno a un piano combo es con il bronco più volendo più l'ombra se la gioca giusto per aprire da un attimo se la giocano questa è una versione che dato non la gioca neanche e volendo può giocare questa specie di mini combo da fare tantissimi danni in testa all'avversario però di base sono dei mid range fair curva in ambo i casi quindi ma buoni match up per cascade che però purtroppo deve fare anche i conti con tutto il resto del meta detto questo noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao e fatti bravi